Ti piacciono i film dell'orrore? Qual è il tuo preferito? La trama riguarda appunto queste due sorelle, giustamente, che vivono in questo casolare di campagna isolato nei primi del Novecento e le loro giornate sono praticamente composte da miseria e faccende. Nonostante ciò però il loro rapporto è estremamente idilliaco, si vogliono un bene dell'anima e tutto sotto quell'aspetto quantomeno scorre e le giornate sono un po' più leggere. Però in una giornata apparentemente tranquilla e normale un uomo si pareserà a casa loro e la minore appunto Lucia comincerà a indagare e scoprirà inquietanti segreti e misteri riguardanti Ada, la sorella maggiore e nulla sarà più come prima. A interpretare Lucia troviamo Victoria Guidi, Ada invece è interpretata da Carola Favarolo e lo straniero è interpretato da Davide Caselli. Le riprese partiranno a fine gennaio, infatti le foto che vedete non sono delle riprese effettive perché non le abbiamo ancora fatte, sono solo delle prove quelle che vedete. Appunto le riprese effettive partiranno a fine gennaio e nei mesi successivi poi verrà montato e tutto, a ottobre lo proietteremo assieme a tutti gli altri corti di diploma degli altri studenti del terzo anno, appunto i diplomandi, i lavancini e poi verrà mandato in qualche festival ed è per questo che vogliamo che sca fuori molto molto bene. Ed è per questo che appunto volevo chiedervi una mano, allora per quanto riguarda la raccolta fondi la trovate sul sito GoFundMe, ma comunque il link lo trovate qui in descrizione o nei commenti e una vostra donazione potrebbe davvero aiutarci tantissimo per attrezzature, cineprese, effetti pratici, tutto quello che comunque concerne la produzione, la post produzione. C'è questa eventualità che verrà mandata ai festival e la cosa per noi potrebbe essere un trampolino di lancio gigantesco, non vi garantisco, anzi so per certo che questo corto non verrà caricato sul canale perché i festival comunque vogliono l'esclusiva e vogliono che i corti proiettati non vengano rilasciati precedentemente in qualsiasi forma o maniera, quindi non posso caricarlo sul canale questo corto. E voi direte sì ma se faccio una donazione in una raccolta fondi mi piacerebbe vedere un prodotto finito ed effettivamente io e Giacomo abbiamo pensato a questa cosa e pensavamo di mandare a chi fa la donazione, quando il corto sarà pronto e tutto quanto, di mandare un link privato con cui effettivamente visionare il prodotto finito. Però sì questa questione dei festival potrebbe essere davvero tanto importante per noi perché se effettivamente, non lo so, mettete caso, nei festival ci sono produttori grossi, magari piace molto la regia di Giacomo e quindi lo chiamano per qualsiasi cosa da fare in futuro, magari piace molto la mia sceneggiatura e possono contattarmi, magari piacciono molto gli attori. Cioè un festival è un trampolino di lancio molto molto importante, noi vogliamo cogliere questa occasione al volo ed è un'occasione effettivamente grossa che ci concede la nostra scuola, però sì come dicevo effettivamente qualcosa da portare ai festival deve anche essere qualitativamente buono. Sono conscio comunque dei talenti che sono davanti e dietro la camera perché sono tutti miei amici e sono tutti estremamente talentuosi e sono conscio del loro talento, ma appunto un vostro contributo e una vostra donazione potrebbe veramente veramente farci un favore gigantesco. Il vostro nome verrà anche scritto nei titoli di coda, qualora doveste fare una donazione, potete anche farla anonima in realtà però vabbè, in caso doveste mettere il nome il vostro nome finirà nei ringraziamenti finali giustamente. E vi aggiornerò comunque su Instagram, su horror-italia-in-basso che è il mio profilo di sempre o anche su, occasionalmente su valerio.scanetti che è il mio profilo personale, ma abbiamo anche aperto una pagina esclusiva, cioè proprio del corto e basta, che si chiama Sorelle Short Film su Instagram, quindi potete seguire aggiornamenti anche lì. Vi ringrazio tantissimo horror-maniaci, grazie mille anche solo per avermi ascoltato e vi ringrazio tantissimo qualora doveste donare o anche solo condividere la raccolta fondi e vi ringrazio tantissimo del supporto in generale. Ci aggiorniamo horror-maniaci e buon anno ancora! Ti piacciono i film dell'orrore? Mhm Qual è il tuo preferito? Qual è il tuo settimana? Now ? Si